Cercheremo con il Presidente del Consiglio, con i consiglieri comunali, con l'Aggiunta di poter venire incontro alle esigenze, adesso non so in che termini questo potrà essere fatto. L'impegno lo assumiamo, speriamo di poterlo mantenere perché non dipende solo dall'Aggiunta, l'Aggiunta potrà fare la propria proposta, poi il bilancio come voi che va in Consiglio comunale e ai consiglieri comunali spetta l'ultima parola. Questo era l'impegno assunto pubblicamente dal Sindaco di Favara lo scorso 21 aprile, quando era in corso la cerimonia tributo alla squadra locale, vincitrice del campionato di promozione. Adesso Favara rischia di perdere la sua squadra di calcio, ad annunciarlo sono proprio i dirigenti gialloblu. Senza sostegno economico dal Comune, hanno detto, siamo costretti a consegnare il Profavara nelle mani del Sindaco Manganella. Ancora una promessa fatta e non mantenuta dall'attuale Sindaco della città di Favara, promesse che il Sindaco ha annunciato non solo pubblicamente ma anche privatamente nel corso di riunioni svolte con la dirigenza. Nonostante i proclami e le promesse, l'amministrazione comunale nello schema di bilancio al vaglio del Consiglio comunale, che dovrà essere approvato entro il prossimo 30 novembre, non avrebbe previsto nessun contributo per il Profavara. Per questo motivo i dirigenti, nel corso di una riunione svoltasi lunedì, hanno deciso che il prossimo primo dicembre consegneranno la squadra nelle mani di Manganella. Avevamo avuto assicurazione da parte dell'amministrazione comunale di un sostegno economico, ha dichiarato il presidente del Profavara, Rino Castronovo, destinato all'iscrizione della squadra al campionato di eccellenza. In assenza del bilancio comunale, la dirigenza si era fatto carico della spesa per l'iscrizione, tenendo conto di ricevere dopo qualche mese il contributo comunale. Ma di tale somma, ha aggiunto il presidente Castronovo, non c'è traccia nel documento approvato dall'Aggiunta. Per l'iscrizione, la società si era impegnata a pagare circa 11.000 euro. Già nell'agosto scorso la dirigenza ha pagato un acconto di circa 5.000 euro entro dicembre, dovrebbe saldare il rimanente in porto. Nostro malgrado, dice Castronovo, siamo costretti adesso a cedere la squadra al sindaco. Ci dispiace per la città e per i tifosi, dichiara ancora il presidente Castronovo, ma non possiamo portare avanti un campionato senza il sostegno dell'amministrazione comunale. Fatta eccezione dell'assessore allo sport, conclude Castronovo, registriamo il non interesse collettivo da parte del sindaco, dell'Aggiunta e del Consiglio Comunale. Siamo stati lasciati soli. L'unico modo affinché la squadra continui a esistere è la presentazione di un emendamento da parte del Consiglio Comunale che inserisca i fondi nel capitolo destinato alle società sportive. Al presidente Castronovo preme sottolineare come la questione non è solo economica. Ci hanno abbandonato, gli spogliatoi dello stadio sono impraticabili. L'auspicio è che la città di Favara non perda la sua massima espressione sportiva e che il sindaco mantenga la sua promessa e che domenica primo dicembre gli spalti dello stadio comunale Giovanni Bruccoleri siano pieni di tifosi per sostenere la squadra senza polemiche in occasione dell'incontro contro il San Sebastiano. Riusciranno sindaco e consiglieri comunali a non deludere le aspettative degli sportivi favaresi, scondato il finale di questo servizio, ai posteri l'ardua sentenza.